Ecco, riprendiamo alcuni aspetti che avevamo lasciato da dire riguardo alla guerra dell'Opio. Vi dicevo, in seguito alla sconfitta nelle guerre dell'Opio e all'obbligo di firmare alcuni trattati commerciali umilianti, l'impero della dinastia Qing cadde e tuttavia rimasero dei gruppi nazionalisti molto orgogliosi in Cina che alimentarono un sentimento xenofobo contro gli europei, contro i colonialisti e questo sentimento di rivalsa si sarebbe poi espresso più tardi, proprio a fine secolo, nelle rivolte, prima quella di Taiping a metà dell'Ottocento e poi nelle rivolte dei boxer. I boxer sono proprio un gruppo di orgogliosi nazionalisti cinesi che erano poi sparsi un po' dappertutto in Cina, erano persone del popolo che si ribellavano ai soprusi dei colonialisti occidentali e delle potenze coloniali occidentali. Dal momento che le prime ribellioni proprio violente sorsero a partire dalle scuole di Kung Fu, quindi arti marziali, poi i missionari, i testimoni occidentali che si trovavano nelle zone, nei loro resoconti, li chiamarono boxer appunto perché si difendevano lottando, si difendevano anche, esprimevano il proprio sfogo, il proprio disappunto contro gli occidentali lottando proprio con il proprio corpo e quindi se volete potete approfondire anche questo aspetto se qualcuno di voi è interessato. In questa immagine potete vedere appunto l'impero britannico e l'impero cinese che si scontrano nella guerra dell'oppio. È un'immagine che probabilmente rappresenta appunto il tentativo degli inglesi di entrare in un porto in Cina per smerciare l'oppio mentre i cinesi tentano appunto di bloccarli. Uno dei porti in cui i cinesi dopo la seconda guerra dell'oppio avevano limitato l'accesso, nel senso come a dire potete sbarcare solo lì per evitare che ci fosse poi troppa vendita di oppio per la Cina, era il porto di Canton. Ma vorrei ora ritornare alla letteratura. Abbiamo parlato di Baudelaire ma lui è il precursore dei simbolisti veri e propri, dei poeti maledetti, i cosiddetti di fine ottocento. Non abbiamo visto nessuna loro poesia e quindi vorrei brevemente vedere con voi un testo di Verlaine e uno di Rimbaud. Mentre le poesie di Baudelaire che abbiamo presentato prima sono nelle vostre dispense, queste di Verlaine e di Rimbaud non ci sono, comunque ci soffermeremo brevemente e giusto per avere un'idea più approfondita rispetto a prima delle tematiche del simbolismo. Di Verlaine ho scelto di presentarvi un'altra poesia intitolata Spleen, anch'essa proprio perché riprende il titolo della poesia di Baudelaire e quindi è possibile anche fare un confronto tra le due se avete voglia e tempo. Vado a leggere ovviamente direttamente in traduzione. Spleen Spleen E' una poesia che ha un presente anche di sentimento amoroso e si rivolge a una figura femminile e ci sono immagini per quanto a volte nuove e sorprendenti, ad esempio l'Edera Nera, il mare troppo verde e l'aria troppo dolce, però sono immagini più luminose intanto rispetto alla poesia di Baudelaire, molto cupa e poi vedete che dice questo sentimento di angoscia mi opprime e sono stanco un po' di tutto, di ogni cosa, fuorché di voi, quindi c'è una maggiore positività sicuramente rispetto alla poesia di Baudelaire e in questo caso in questa di Verlaine. Andiamo a vedere ora questa che è anche molto divertente, è una poesia di Rimbaud che si intitola Vocali, qua vi ho messo il link se la volete ascoltare in lingua originale. A nera, E bianca, I rossa, U verde, O blu, Vocali, io dirò un giorno le vostre nascite latenti, A nero corsetto villoso di mosche splendenti che ronzano intorno a crudeli fetori, Golfi d'ombra, E candori di vapori e tende, lance di fieri ghiacciai, Bianchi re, brividi di umbrelle, I, porpora, sangue sputato, risata di belle labbra nella collera o nelle ubriachezze penitenti, U, cicli, vibrazioni divine dei verdi mari, pace di pascoli seminati di animali, pace di rughe che l'alchimia imprime nelle ampie fronti studiose, O, suprema tromba piena di strani stridori, silenzi attraversati da angeli e mondi, O, l'omega, raggio di viola, dei suoi occhi. Ecco questa poesia che appare a prima vista semplice e anche divertente perché associa ad ogni lettera un colore, però in realtà è molto complicata da interpretare tant'è che usa un linguaggio sì semplice ma accostando tra loro parole di significato così diverso in immagini sfuggenti che possono essere date tantissime interpretazioni tutte soggettive e tutte assolutamente accettabili a seconda ovviamente di chi legge e allo stesso modo è soggettivo l'accostamento delle vocali ai vari colori perché la E è nera, la E è bianca, la I è rossa, la U è verde e la O è blu perché proprio la O è blu e non la U piuttosto. Non si sa, sono state fatte moltissime ipotesi, alcuni sono addirittura risaliti all'abecedario scolastico probabilmente utilizzato da Rimbaud all'elementare che ad ogni vocale attribuiva un colore diverso altri hanno cercato un accostamento con la musica, la teoria musicale e Rimbaud sarebbe andato a lezione da un maestro che per insegnarli a suonare il piano colorava le note e quindi attribuendo a ciascuna nota il suono di una vocale, di un colore. Non si sa perché, è comunque un accostamento assolutamente soggettivo. Quando a Baudelaire stesso veniva chiesto il significato di questa poesia lui rispondeva bisogna leggerla così, come non ci sono altri significati sotto cioè ovviamente altri significati sottosimbolici si possono ovviamente trovare anzi moltissimi a seconda di chi la legge però effettivamente questa poesia come la poesia simbolista in generale è in primo luogo un testo basato proprio sul significante cioè sull'accostamento di parole e di suoni anche senza per forza che ci sia una ragione razionale per accostarli per accostare un'immagine a un'altra magari solo la bellezza del suono, dell'immagine e del loro accostamento e quindi il significato semmai è un qualcosa in più che si può trovare e ciascuno può trovarne uno proprio anche per questo insistevo, insisto vi ho messo i link perché ascoltiate i testi se avete tempo in lingua originale perché ovviamente si possono percepire meglio i suoni e i giochi proprio fonici ricercati e creati dall'autore comunque due cose si possono dire sulla poesia innanzitutto vedete che ha rovesciato l'ordine tradizionale con cui vengono studiate le vocali A, E, I, O, U qua ha rovesciato la O e la U ha messo prima la U e dopo la O questo perché riprende quello che è l'alfabeto greco simbolicamente dire dall'alfa alla omega che era l'ultima lettera dell'alfabeto greco significa dire dall'inizio alla fine quindi come se la poesia in sé attraverso le vocali accostate a colori in modo arbitrario e ad immagini in modo anche qua assolutamente almeno casuale almeno a prima vista ecco, è come se fosse si tradasse di un universo compiuto in sé di un qualche cosa che parte da un inizio per arrivare a una fine e in questo universo il poeta sembra giocare con il linguaggio per esplorarne le infinite possibilità creative qua intanto vedete e parte da là dal basso come dire nero corsetto villoso di mosche e arriva la omega invece all'alto come dire c'è un movimento di elevazione se uno vuole può interpretarlo in questo modo la omega sarebbe suprema tromba piena di strani stridori silenzi attraversati da angeli e mondi quindi come dire si parte dalla terra dal nero corsetto villoso di mosche dall'origine della vita magari proprio dalla terra basta per arrivare poi al pensiero a qualche cosa che rivela il mistero il senso del tutto angeli e mondi che sono attraversati in silenzio beh comunque qualche spunto interpretativo pochissimi ve l'ho messi nella slide successiva vedete come vi dicevo la poesia presenta grandi difficoltà di comprensione perché ogni legame logico è infranto non c'è una ragione per cui una vocale sia di un colore piuttosto che un altro e per cui la A quindi per esempio sia collegata a un nero corsetto di mosche la E a vapori bianchi e tende non c'è una ragione è semplicemente una analogia sono tante analogie accostamenti proprio di parole e di immagini quasi casuali quasi casuali e oltre all'analogia va detto una figura retorica importantissima di nuovo nella poesia simbolista è presente forse non ve l'ho fatto notare quando abbiamo letto corrispondenze di Baudelaire e ce n'erano moltissime soprattutto nella seconda parte quella relativa ai profumi ma ce ne sono tantissime anche qui sono le sinestesie accostamento di sfere sensoriali diverse se andiamo a vedere infatti a ogni vocale rappresentata visivamente come segno grafico è associato un colore e poi sono associati diversi elementi che si collegano a tutte le sfere sensoriali quindi nero corsetto villoso vista tatto di mosche splendenti che ronzano udito intorno a crudeli fettori olfatto vedete quante sfere sensoriali sono coinvolte quindi andate a cercarvele sono frequentissime le sinestesie comunque vi dicevo ogni legame logico è infranto è proprio il massimo dell'irrazionalismo il linguaggio è diciamo alla deriva eppure è controllato e tra l'altro questo aspetto di collegare immagini quasi casualmente che poi lo rivedremo in altro modo celebrato dai futuristi e però si può collegare anche a quella che è la teoria psicoanalitica di Freud vi ricordo Freud è attivo in questo periodo proprio e pubblica la sua opera più importante l'interpretazione dei sogni nell'anno 1900 quindi comunque si può dire che sia contemporaneo è un po' prematuro il fatto che questi poeti già conoscano l'opera di Freud però come dire è tutto un clima culturale che va avanti in questo periodo in contemporanea ecco proprio nella teoria di Freud anni dopo rispetto ai poeti simbolisti si darà spazio alle immagini simboliche e ai collegamenti alogici propri dei meccanismi dell'inconscio pensate al sogno nel sogno quante cose assurde e illogiche quante immagini le più disparate vengono collegate tra loro senza che ci sia un nesso logico magari solo per associazione simbolica un'immagine rappresenta qualcosa altro e quindi viene collegata nel sogno a un'altra immagine che a sua volta rappresenta qualcosa altro quindi il sogno poi va interpretato appunto secondo Freud ecco questa poesia vocali è scritta all'inizio del 1872 probabilmente sotto la suggestione di corrispondenze di Baudelaire è un sonetto se lo avessimo separato le strofe e associa appunto le lettere dell'alfabeto e i colori realizzando con delle immagini le sensazioni che vengono fuori dalla forma e dai colori delle vocali poi vi ho messo una slide che se volete potete leggervi sulle varie ipotesi interpretative di questo testo ce ne sono alcune cioè hanno scritto moltissimo moltissimo su questo sonetto se volete qua c'è una brevissima sintesi che ora non ho tempo di grazie a tutti Grazie a tutti.